Buongiorno, sono Roberto Moro della Contra all'SRL, una ditta ormai consolidata nel arrivamento per esterno nata nel 2001. È nata con l'intento di soddisfare quelle che sono le esigenze del contract, dell'oreca, di un prodotto per esterno funzionale, leggero e robusto. Da qui il nostro impegno di anno in anno nel trovare degli articoli adatti a questo tipo di realtà e con questa funzionabilità. Da 7 anni ormai partecipiamo a questa manifestazione importante per tutto il bacino del Garda, con questi segnali magnifici tra montagne e laghi, con molta soddisfazione e questi contatti continui con gli albergatori che ci danno continuamente una speranza per continuare nel migliorare il nostro prodotto qualitativamente e anche come immagine. Ringraziamo l'ente fiera di questa possibilità e arrivederci al prossimo anno.